Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui finalmente con il video e la serie che vi avevo promesso. Siccome sono un malato di tattica e a ogni partita cerco di captare quali sono i movimenti e le scelte tecniche e tattiche che il nostro allenatore cerca di dare alla nostra squadra, ho deciso di fare questi tipi di video il giorno dopo di ogni partita. A voi è piaciuto tanto perché ho visto che non tutti lo fanno, anzi forse non lo fa praticamente nessuno e ho intenzione di analizzare insieme a voi con delle grafiche, anche quindi tra un po' mi sposterò un po' più qua così vedrete la lavagnetta. Questo video ragazzi non è per tutti oggettivamente, c'è gente a cui può piacere, gente a cui può annoiare questa tipologia di video. Io semplicemente vi chiedo di commentare e scrivermi se volete che continui questa serie e lasciare un bel mi piace per farmi capire che è una serie che oggettivamente può piacervi. Direi di partire subito ragazzi, ci sarebbero da dire un sacco di cose ragazzi, ma io cerco di racchiudere il tutto con le cose fondamentali che abbiamo visto la partita di ieri. Quindi adesso mi sposto un po' più qua così vedrete la lavagnetta incredibile. Partiamo subito dal modulo ragazzi, passiamo subito dal modulo, ovviamente ho il foglietto perché mi sono segnato tutto, ho studiato eccetera eccetera. Quindi se mi vedete guardare giù è perché mi sono assegnato un po' di punti. Partiamo subito dal modulo. Il modulo che abbiamo visto inizialmente ragazzi è un 4-2-3-1, quindi con Spinazzola a destra, Smalling centro-destra, Fazio centro-sinistra e Kolarov terzino-sinistro. Questo per i primi 15 minuti. Dal quindicesimo al quarantacinquesimo e anche nel secondo tempo abbiamo visto una Roma con la difesa a tre. Una difesa a tre che nelle partite precedenti non abbiamo visto in sé per sé perché non era una vera e propria difesa a tre quella di Fonseca, era più che altro un Kolarov che scendeva rispetto al terzino opposto in fase di non possesso. Questo è ben diverso dall'utilizzare una difesa a tre sia in fase di possesso che non possesso. Quindi siamo passati a tre con Fazio centro-destra come nella partita con il Barcellona di due anni fa, Smalling centrale e Kolarov centro-sinistra che è un po' il ruolo che faceva il Manchester City. Perché ha deciso di cambiare modulo Fonseca? Perché con il 4-2-3-1 ragazzi l'Atalanta ha visto che era un po' padrona del centrocampo. La Roma con i due mediani non riusciva a coprire bene gli spazi. Infatti andando a raddoppiare sugli esterni dell'Atalanta lasciavamo libero il centro. Infatti sulla linea della tre quarti Gomez e Malinowski all'inizio erano sempre liberi di ricevere e quindi avevamo un po' il buco a centrocampo. Avendo due esterni che salivano molto come Ateboer e Castagne lasciavamo il centro un po' scoperto con Cristante Veretout che solitamente anche vanno ad aiutare i terzini. Con il passaggio al 3-4-2-1 ci siamo messi praticamente a specchio tranne per il tre quartista perché ha giocato più 2-1 sì praticamente a specchio perché ha giocato 3-4-2 anche all'Atalanta quindi ci siamo messi un po' a specchio e numericamente ci siamo messi alla pari anche al centrocampo dell'Atalanta quindi avevamo l'opportunità di fare un pressing a tutto campo perché c'erano gli esterni Florenzi e Spinazzola che marcavano gli esterni Ateboer e Castagne e mentre Cristante Veretout avevano la possibilità di rimanere al centro a coprire la parte centrale e questa è stata una buona mossa ragazzi da parte di Fonseca che è riuscito a cambiare a partita in corso sicuramente l'aveva già provata in allenamento perché non cambi modulo così quindi l'aveva già studiata come possibilità che cosa comporta però il passaggio alla difesa a tre? comporta che i tre difensori dell'Atalanta erano proprio numericamente alla pari ai nostri tre attaccanti quindi loro avevano Kier, Toloi e Palomino e noi avevamo Zagnolo, Pellegrini e Gecko quindi marcature a uomo, marcature strette perché Kier marcava uomo praticamente Gecko l'abbiamo visto durante tutta la partita Palomino sul centro-sinistra marcava Zagnolo e Toloi sul centro-destra appunto marcava Pellegrini e hanno vinto anche parecchi duelle aerei soprattutto Kier con Gecko hanno quasi vinto gli stessi duelle aerei e l'Atalanta pressando i difensori quando il pallone ce l'aveva Paolo Lopez costringevano Paolo Lopez al punto a rinvio lungo quindi non più alla costruzione dal basso che quello che chiede Fonseca quindi se tu mi pressi i difensori non puoi costruire dal basso e sei costretto a lanciare lungo per Gecko che appunto nei duelli vinti ne ha vinti sei Gecko e cinque Kier quindi più o meno siamo là infatti comunque la Roma si è creata pericolosa solamente quando Gecko è riuscito a spizzare prima di Kier quindi sulle seconde palle si avventavano o Pellegrini e Zagnolo e quindi riuscivamo ad andare più o meno nell'uno contro uno con i rispettivi due difensori come vi dici nel video post partita di ieri che vi invito a guardare abbiamo perso molto tempo con la palla ai piedi di Paolo Lopez infatti come ho detto a questa schermata che praticamente vi fa vedere nelle parti della zona del campo dove è più accentuato il rosso sono le zone di campo che maggiormente abbiamo calpestato quindi con la quale abbiamo tenuto più la palla e vedete che la zona di Paolo Lopez è praticamente rossa come due o tre zone più delle altre perché Paolo Lopez rimaneva lì 10-15 secondi con la palla fa i predi che non sapeva cosa fare ma questo per tutta la partita io penso che abbiamo perso di 90 minuti 10 minuti con la palla ai piedi di Paolo Lopez che non sapeva cosa fare e questo è una perdita di tempo ragazzi parlando della partita comunque fino al sessantissimo comunque la Roma aveva neutralizzato bene le trame dell'Atalanta sapendo che comunque dalla fase offensiva qualcosa poteva nascere perché è il nostro punto di forza la fase offensiva quindi Fonseca ha pensato cerchiamo di limitare le trame offensive dell'Atalanta poi con l'attacco di fantasia che abbiamo qualcosa riusciamo a fare un po' quello che è successo ragazzi infatti le migliori occasioni sono le nostre a parte i due gol fino al sessantesimo con Dzeko nel primo tempo e appunto Zagnolo nel secondo tempo e Zagnolo ragazzi se vedete bene l'azione di Zagnolo è esattamente come vi ho raccontato prima sulle seconde palle c'è stata la spizzata di Dzeko sul rinvio di Paolo Lopez dove i difensori della Roma erano ancora pressati dagli attaccanti dell'Atalanta quindi il rinvio di Paolo Lopez la sponda di Dzeko, Pellegrini, palla fantastica a lanciare sulla fascia Zagnolo uno contro uno alla Roma è mancato molto l'uno contro uno perché in velocità Zagnolo su Palomino è stato devastante a parte il gol sbagliato Zagnolo è stato uno dei migliori in campo ragazzi insieme a Spinazzola secondo me e quindi poi si è ritrovato Zagnolo uno contro uno con Palomino che è quello che appunto di cui avevamo bisogno i problemi nascono quando appunto è uscito Spinazzola ragazzi nessuno se ne è accorto ma dal sessantesimo in poi la Roma ha cominciato a subire di più sia per l'ingresso di Zapata ma già prima dell'ingresso di Zapata dopo l'uscita di Spinazzola la Roma ha perso un uomo che comunque da quando si era praticamente defilato sulla fascia sinistra nel centrocampo A4 si inseriva molto tra le linee e infatti se vedete dalla zona sempre del campo occupato da Spinazzola vedete che varia molto addirittura si è spostato sulla trequarta infatti nel primo tempo l'azione dell'occasione di Dzeko è venuta da Spinazzola che praticamente agiva da trequartista e allargato per Dzeko un'azione bella, costruita bene quasi tutta di prima Spinazzola che invece di chiudere l'1-2 con Florenzi allarga per Dzeko è stata questa la mossa sorpresa Spinazzola era a tutto campo e andava tra le linee benissimo e infatti è stato lì bravo Gasperini poi dopo l'uscita di Spinazzola a mettere dentro Zapata e ad allungare la nostra linea difensiva questo un po' ci ha penalizzato se invece vediamo adesso le posizioni medie di tutti i giocatori della Roma praticamente i pallini corrispondono alla posizione media di ogni giocatore nel rettangolo di gioco si vede come Spinazzola appunto abbia la libertà di movimento infatti se guardate bene è praticamente tra Cristante e Veretout quindi un centrocampista ha giunto assume una posizione media da centrocampista infilandosi tra le linee che poi non è avvenuto con il cambio perché Mkhitaryan se vedete nella foto a fianco con il 77 è avanzato un po' di più rispetto a Spinazzola quindi c'è rimasto un buco a centrocampo tra Cristante e Veretout dove lì l'Atalanta poi ha fatto un po' il cacchio che voleva infatti Mkhitaryan non è neanche entrato benissimo in partita poi come vedete dall'Atalanta si può notare quello che ho detto praticamente all'inizio come i tre difensori sono completamente fermi lì hanno una linea perfetta giusto con Kier un po' più arretrato verso la porta perché forse Giacomo lì che tentava di avanzare Kier leggermente un po' più indietro di Palomino e Toloi ma Palomino e Toloi vedete perfettamente in linea e che marcano a uomo i nostri tre attaccanti con Deron che vedete un po' più arretrato rispetto a Froiler pronto a ricevere la seconda palla dopo il duello aereo vinto da uno dei tre difensori lui si abbassa per ricevere per prendere le seconde palle la Roma poi gioca molto sul lato di Kolarov e l'ha capito l'Atalanta infatti come vedete da questa schermata sono le palle recuperate dall'Atalanta ci sono una miriade di palle sia perse nostre che recuperate dall'Atalanta sulla fascia di Kolarov quindi in quella zona si è capito comunque che la Roma gioca molto di più dalla fascia di Kolarov quindi queste ragazzi sono più o meno le cose le cose che c'erano da dire ci sarebbe tantissimo altro da dire mi sposto ma verrebbero dei video lunghissimi io spero che il video vi sia piaciuto se fosse così lasciate un bel mi piace mi raccomando seguitemi su Instagram per altre notizie per rimanere sempre aggiornati spero vi sia piaciuto lasciate un mi piace un commento ciao aglio forza Roma eh